Queste sono invece le classiche strutture abitative romane, fatte con pietrisco, ammassate in Malta, che nulla hanno a che fare con le mura di tipo poligonale, che di Malta non ce n'era. Questo è un classico esempio di riutilizzo che è stato osservato sempre nella storia umana, nella storia antica, perché tutto quello che noi oggigiorno conosciamo è stato riutilizzato, quindi in parte smantellato, in parte distrutto, cancellato come ha fatto l'Isis, ricordate, con i bassorilievi antichi. E poi quello che facevano, vedete, i romani facevano le colonne di cui loro erano abili costruttori e poi realizzavano, adattavano a tutto questo l'opera muraria per scopi probabilmente anche di culto, insomma, templi, eccetera. Ma anticamente come doveva essere, anche perché questi blocchi per terra sono enormi, non è un'opera, non sono blocchi voglio dire di epoca romana, di origine romana. Ecco, seguitemi ovviamente attraverso i miei libri su lulu.com, basta inserire Daniele Cataldi e cercare i miei libri, dove tutte queste cose sono trattate con dovizia di particolari, dove si avanzano appunto delle mie ipotesi, ovviamente.